Lo fai giocare spalle alla porta, diventa secondo me un pochino più prevedibile, però non sapranno loro come va utilizzato. Io a Kimi non ho grossi dubbi sul fatto che verrà fuori bene, lo spero per l'Inter, lo spero per il mio, per attaccare, lo spero per il mio, per il mio, per il mio, per il mio il don alla nossa come stato passato, c'è Luca, c'è Luca e si chiede, riusciamo a ringraio a dire se sono c�seli di Ralph's e se dirà in favore di tutti i cattemi sampai, dai freddo dell' Dongua dei matti? No, nos y'all sento uno degli sottotitoli?